L'età napoleonica. Napoleone alla conquista del potere. È difficile trovare un ragazzo che non abbia mai sentito parlare di Napoleone Bonaparte. Vi siete mai chiesti perché a distanza di due secoli questo personaggio colpisce ancora tanto la nostra immaginazione? In questo capitolo cercheremo di rispondere mostrando quanta importanza ha avuto la sua vita per tutta l'Europa. Un ventennio della storia europea è stato dominato dalla sua fortissima personalità, in qual ventennio la società europea subì profonde modificazioni. Naturalmente queste trasformazioni non vanno attribuite unicamente alla personalità di Napoleone. Esse non sarebbero state possibili senza i grandi rivolgimenti della rivoluzione francese. La rivoluzione democratica era stata sconfitta dopo l'uccisione di Robert Spierre e con il direttorio il potere era saldamente nelle mani della ricca borghesia. Napoleone fu l'erede di questo successo. Egli fu l'eroe della borghesia. Non solo ne condivise gli ideali e in base ad essi riorganizzò la Francia, ma esportò in tutta Europa le conquiste della rivoluzione francese. Assai spesso le impose con la forza delle armi. L'esercito fu infatti il principale strumento del potere di Napoleone. Ma questo strumento egli l'ho eredito dalla rivoluzione. In quegli anni agitati l'esercito era l'unica organizzazione rimasta in piedi, anzi in continuo sviluppo. Come abbiamo visto durante il terrore, quando la Francia era circondata da ogni parte da nazioni nemiche, l'esercito si era enormemente ingrandito grazie alla coscrizione obbligatoria. Gli ufficiali borghesi l'avevano riorganizzato secondo nuovi principi. Napoleone portò a termine questa rivoluzione nell'organizzazione dell'esercito. Le circostanze lo aiutarono molto. La Francia era in un periodo di rapido aumento della popolazione e i soldati non mancavano. Anzi, l'esercito costituiva un impiego per tanti giovani che altrimenti sarebbero rimasti disoccupati, dato che in Francia lo sviluppo dell'industria era ancora lontano dai livelli raggiunti dall'Inghilterra. Ma chi manteneva l'esercito? La risposta di Napoleone fu altri popoli che la Francia poteva conquistare. Su queste basi nasceva così l'avventura napoleonica. Vediamone ora le origini e gli sviluppi. La carriera di Napoleone Napoleone Bonaparte era nato ad Ajaccio, in Corsica, nel 1769, poco dopo che quest'isola era stata ceduta da Genova alla Francia. Si era distinto nell'esercito rivoluzionario e a soli 24 anni era già generale. Molto ambizioso, seppe fare un matrimonio conveniente. Sua moglie, Giuseppina Boarnè, era una donna molto influente nell'ambiente corrotto del direttorio. Le amicizie della moglie tornarono ben presto utili a Napoleone. Il direttorio aveva programmato una grande campagna militare contro i paesi che continuavano a combattere la Francia. Due armate avrebbero dovuto marciare su Vienna attraverso la Germania, mentre una terza avrebbe dovuto tenere impegnati Savoia e gli austriaci in Italia. Il comando di quest'ultimo esercito fu affidato a Napoleone, nonostante avesse appena 27 anni. La campagna d'Italia La spedizione di Napoleone, cui si attribuiva un'importanza secondaria, fu l'unica a riportare un successo strepitoso. Il giovane generale riuscì a separare i piemontesi e austriaci e a batterli ripetutamente. Valicate le Alpi, nel marzo del 1796, in maggio entrava già in Milano accolto come un liberatore. L'insofferenza per il dominio austriaco incominciava infatti a manifestarsi. Anche la millenaria Repubblica di Venezia cessava di esistere occupata dalle truppe francesi. A Parigi, dove Napoleone spediva dall'Italia denaro e opere d'arte, che ancora oggi abbelliscono il Museo del Louvre, il suo prestigio cresceva. Egli era un ottimo propagandista di se stesso e faceva scrivere sui giornali frasi come questa. Napoleone è ovunque e vede tutto. Si diceva che avesse la capacità di lavorare 18 ore al giorno. Nasceva, insomma, il mito di Napoleone, abilmente ispirato da lui stesso. L'aver compreso l'importanza della propaganda nella vita politica è uno degli aspetti della sua genialità. Egli inaugurò un nuovo stile politico basato sul culto della personalità del capo. La pace di Campoforio Dall'Italia, il generale si accingiva ora a marciare su Vienna, che si affrettò a chiedere la pace. Firmata a Campoforio nel 1797, questa riconosceva una nuova organizzazione politica dell'Italia, che si sarebbe ulteriormente modificata tre anni dopo, nel 1800. Come potete notare dalla cartina, l'Austria si annetteva, univa ai suoi territori, cioè univa ai suoi territori il Veneto, ma cadeva, ma cedeva alla Francia, la Lombardia e fuori d'Italia il Belgio. In compenso, la Francia si annetteva al Piemonte dei Savoia, ma più importante era ciò che stava accadendo nelle altre regioni italiane. Napoleone riusciva a far nascere una serie di repubbliche sul modello francese. Nel 1797 sorgevano la Repubblica Cisalpina, con capitale Milano, la Repubblica Ligure, con capitale Genova. L'anno dopo, le truppe francesi cacciavano il Papa a Roma e nasceva la Repubblica, la Repubblica Romana. Infine, nel 1799 era la volta del Regno di Napoli, trasformato in Repubblica Partenopea. L'esperienza napoleonica in Italia Le Repubbliche napoleoniche furono Un'esperienza importante, perché l'Italia, che non aveva conosciuto la rivoluzione, conobbe almeno le idee di uguaglianza e di libertà. Si organizzarono gruppi di patrioti, cioè di italiani, che appoggiavano le idee di rivoluzionari francesi e avrebbero voluto vederle realizzate in Italia. Molti privilegi feudali vennero aboliti, furono promulgate costituzioni sul modello francese. La borghesia illuminata andò al potere, sorretta dalle truppe francesi. Comparve anche nella Repubblica Cisalpina La nostra bandiera tricolore, anch'essa, si ispirava al modello francese. I limiti dell'esperienza napoleonica divennero però ben presto chiari ai patrioti italiani. I francesi pretendevano di scegliere chi doveva comandare le nuove repubbliche e le loro truppe si abbandonavano a ogni sorta di saccheggio. La guerra con l'Inghilterra e la campagna d'Egitto Frattanto, Napoleone si vedeva affidato un nuovo compito militare dal direttorio che preferiva tenere lontano da Parigi una personalità così popolare temendo che potesse acquistare potere politico. Dopo Campoformio, soltanto l'Inghilterra rimaneva in guerra con la Francia. Essa non aveva un esercito paragonabile a quello francese ma aveva una fotta imbattibile. Come piegare l'odiata nemica? Si chiedevano i francesi. Ed ecco il progetto di Napoleone, privare l'Inghilterra della principale fonte delle sue ricchezze, la lontana India. A questo scopo egli occupò l'Egitto, utile agli inglesi come base per raggiungere l'India. Un progetto un po' macchinoso ma che Napoleone affrontò con determinazione. Malgrado alcune vittorie, come quella del 1798 alle Piramidi, egli però non raggiunse il suo scopo. Gli inglesi passarono a contrattacco. L'ammiraglio Orazio Nelson distrusse la fotta francese sulle coste egiziane, intrappolando Napoleone in terra africana. Soltanto a stento il generale, abbandonato il suo esercito, riuscì a sfuggire a Nelson e a raggiungere la Francia. Con un'abile propaganda ritornò come un trionfatore, anche se la campagna d'Egitto non era stata proprio un trionfo. Aiutato da illustri egittologi, aveva fatto giungere a Parigi monumentali opere ed arte dei faraoni, suscitando una vera passione per la cultura dell'antico Egitto. Ma le cose in Francia andavano male. Sul fronte militare l'Inghilterra era ora affiancheggiata da Austria e Russia e la borghesia francese voleva un eroe che salvasse la situazione. Il colpo di Stato. Napoleone, primo console. Napoleone, comprese, che raggiunte il momento di realizzare le sue ambizioni. Il 9 novembre 1799 entrò con le sue truppe nell'Aula del Consiglio dei Cinquecento. Ne fece uscire i deputati e, proclamandosi salvatore della patria, assunse il titolo di primo console. Insomma, con un colpo di Stato Napoleone era diventato padrone assoluto della Francia. In breve tempo Napoleone pose fine alla guerra. Gli austriaci furono vinti con una folgorante vittoria a Marengo, vicino ad Alessandria, nel 1800. Due anni dopo, anche gli inglesi firmavano la pace. Della pace Napoleone seppe approfittare per riorganizzare la Francia, secondo criteri che potremmo riassumere in due parole. Ordine e ricchezza. Tutte le leve del potere furono concentrate a Parigi. Le province erano rigidamente controllate da prefetti nominati direttamente dal governo. A Parigi risiedeva la Banca di Francia, che finanziava con prestiti vantaggiosi lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria. Le monete francesi divennero in tutta Europa simbolo di prosperità. Il Napoleone d'oro, il Marengo d'oro, il frango d'argento. Lo sviluppo della ricca borghesia fu assicurato anche da un altro strumento, il codice napoleonico. Era la prima organica raccolta di leggi che aboliva tutti i primi leggi feudali e riconosceva come fondamento del diritto la libertà della persona, la famiglia e la proprietà privata. Avere leggi scritte, stabili ed eguali per tutti, era una grande conquista dopo secoli dominati dall'incertezza e dal disordine dei primi leggi feudali. Diffuso anche nei paesi europei controllati dalla Francia, il codice napoleonico è ancora oggi la base della legislazione vigente in gran parte d'Europa, compresa l'Italia. Napoleone, imperatore Naturalmente, la maggior preoccupazione di un uomo ambizioso come Napoleone era quella di aumentare incessantemente il proprio potere. Dapprima assunse il titolo di primo console, vita, e poi nel 1804 si fece proclamare dal senato imperatore dei francesi. Qualche mese più tardi il papa Pio VII assisteva alla sua incoronazione. Sembravano tornati i tempi di Carlo Magno, ma la differenza fu evidente quando Napoleone si mise in testa la corona da solo. La Francia era di fatto tornata a essere uno stato assolutistico, dopo aver in vano tentato di trasformarsi in monarchia costituzionale in repubblica. Ma Napoleone era ben attento a distinguersi dagli odiati sovrani che i francesi avevano liquidato con la rivoluzione. Curando, come sempre, la propria immagine pubblica, egli si presentò come erede degli antichi romani. I titoli di console e di imperatore erano appunto romani, e come romani Napoleone cingeva la corona da loro e indossava tuniche lunghe fino ai piedi. Vestirsi alla romana divenne una moda che dai salotti parigini dilagò in tutta Europa. Napoleone è la nuova classe dirigente francese, che l'imperatore ricompensava con nuovi titoli nobiliari, erano d'altronde profondamente diversi dalla vecchia aristocrazia che ancora governava gli altri stati d'Europa. Questa vedeva con disprezzo in Napoleone, vedeva con disprezzo in Napoleone e nella sua corte una massa di popolani arricchiti che propagandavano idee pericolose per i regimi democratici. Anche per questa differenza di mentalità un accordo non era possibile e dopo pochi anni si sarebbe tornati a una guerra che avrebbe travolto l'intero continente. La ripresa della guerra, l'Europa napoleonica. Dal 1805 al 1809 in tutta l'Europa si susseguirono battaglie nelle quali Napoleone riportò vittorie su vittorie. La più spettacolare è quella di Austerlitz del 1805. Vi sarà raccontata a pagina eccetera eccetera. Solo l'Inghilterra rimaneva per la Francia un nemico imbattibile. La flotta francese e quella spagnola alleata erano state anzi clamorosamente sconfitte nel 1805 dall'ammiraglio Nelson, morto in battaglia, a capo Trafalgar, a nord-ovest della Spagna. Per piegare l'Inghilterra Napoleone proclamò allora il blocco continentale. Nessun porto d'Europa avrebbe potuto ospitare navi provenienti da quel paese. Si trattava di un provvedimento molto nocivo per una nazione che viveva di commercio. Ma per far osservare il blocco Napoleone doveva intensificare il suo personale controllo su tutta l'Europa. Ed ecco che in essa sorsero regni affidati ai fratelli e ai più stretti familiari dell'imperatore. Inoltre per assicurarsi un'erede Napoleone aveva divorziato da Giuseppina Boarnet che non gli dava figli e aveva sposato Maria Luisa, figlia dell'imperatore d'Austria. La Spagna, che pur essendo alleata di Napoleone aveva visto cacciare il suo re per far posto al fratello dell'imperatore aveva scatenato una furibonda guerriglia contro le truppe napoleoniche. E in tutta Europa contro Napoleone si schieravano in nome dell'amor di patria proprio a quelle borghesie illuminate che avevano inizialmente seguito gli ideali della rivoluzione. La fine del grande avventuriero era vicina. La campagna di Russia L'occasione fu data dal rifiuto dello zar Alessandro I di osservare il blocco continentale. La Russia aveva bisogno dei prodotti inglesi. Napoleone pensò di punirlo con un'azione rapida ma efficace ed entrò in Russia nel 1812 con un esercito immenso 700.000 uomini di cui un terzo erano francesi e gli altri provenivano dalle nazioni sottomesse alla Francia, compresa l'Italia. I russi non opposero resistenza si ritirarono ma alle loro spalle bruciarono ogni cosa che potesse servire ai francesi come cibo o ricovero. Quando questi giunsero a Mosca anche la città i cui edifici erano per lo più di legno andò in fiamme. Solo a questo punto i francesi si accorsero di essere caduti in una trappola. Il micidiale inverno russo era sopraggiunto e Napoleone dovette ordinare la ritirata. fu un disastro incomparabile. I soldati morivano di fame e di freddo incessantemente incalzati dalla guerriglia dei partigiani russi semplici contadini che combattevano animati da spirito patriottico. Solo 40.000 soldati affamati e riconoscibili riuscirono a far ritorno in Prussia e era la più grave sconfitta militare della storia. La sconfitta e i cento giorni I nemici della Francia ne approfittarono e ripresero la guerra. Misero insieme un esercito di 300.000 uomini mentre Napoleone questa volta riuscì a radunare appena la metà. Fu irrimedialmente sconfitto nella battaglia di Lipsia nel 1813 e venne costretto ad abdicare nel 1814. La Francia fu invasa dagli eserciti stranieri. a Parigi saliva sul trono Luigi XVIII fratello del re ghigliottinato mentre a Napoleone veniva concessa la sovranità della sola isola d'Elba dove si ritirava. Napoleone non si rassegnò però a quella sorte. Meno di un anno era passato quando egli elusa la sorveglianza inglese ricomparve in Francia. I soldati inviati per catturarlo ricordando ricordando le grandi imprese dell'imperatore non resistettero al suo fascino e si schierarono con lui. Presto il rientro si trasformò in un trionfo e Luigi XVIII dovette scappare. Le potenze rivali già riunite nel congresso di Vienna per decidere la nuova geografia politica dell'Europa misero subito in campo e loro eserciti. Fu Napoleone stesso ad attaccarle col suo nuovo esercito ma il 18 giugno 1815 fu definitivamente sconfitto nella grande battaglia di Waterloo in Belgio. L'ultima avventura dell'indomito generale era durata appena cento giorni. Persa ormai ogni speranza Napoleone si consigliò agli inglesi questi lo portarono in una sperduta isola dell'Atlantico Sant'Elena dove rimase controllato a vista fino alla morte per Stenti sopraggiunta il 5 maggio 1821.